Doppio debutto in casa Apple. Il 21 settembre 2018 è il giorno dell'arrivo in Italia dei nuovi smartphone della Mela Morsicata, iPhone XS, iPhone XS Max e di Apple Watch Series 4. E per la prima volta le code in attesa all'apertura dei negozi si sono viste anche nel centro di Milano, dove a due passi dal Duomo, da luglio, è aperto il nuovo store di Piazza Liberty. A prima vista manca la lunghissima fila a cui si era abituati fuori dagli Apple Store per l'arrivo nei negozi dei nuovi device Apple. Per questioni di sicurezza e ordine pubblico si è deciso questa volta di scaglionare e dividere i clienti in attesa per fasce orarie, separando anche chi aveva preordinato i telefoni dagli altri. Il primo ad aggiudicarsi nuovi iPhone e watch in vendita in Piazza Liberty è Vitali, studente russo dell'Università Bocconi. Sono arrivati ieri pomeriggio alle 3 circa, non ho fatto in tempo a prenotarlo e quindi ho dovuto aspettare qui tutta la notte, comunque è passata bene perché ci sono tante altre persone che sono in attesa e quindi è abbastanza divertente. Per lui e per gli altri coraggiosi in attesa da tante ore c'è la possibilità di toccare con mano i primi prodotti con l'assistenza degli addetti allo store. È l'occasione per condividere il momento con gli amici, magari facendosi scattare una foto. I nuovi iPhone XS 5,8 pollici e XS Max 6,5 pollici hanno display Super Retina, un sistema a doppia fotocamera migliorato e più veloce, il primo chipset a nanometri in uno smartphone, a 12 Bionic con neutral engine di ultima generazione, funzione Face ID più veloce, color oro e per la prima volta la Dual SIM su iPhone. Apple Watch Series 4 ha un display oltre il 30% più ampio, cassa più compatta e sottile, nuova interfaccia e sistema operativo con nuove funzioni, tra cui accelerometro e giroscopio più evoluti che rilevano le cadute e un cardiofrequenzimetro in grado di effettuare un elettrocardiogramma.